Under 17 e Under 14, queste le categorie che partiranno sotto la gestione dell'US Agropoli, capitanata dal presidente onorario Carmelo Infante, il dirigente Antonello Striano, i mister Antonio Inverso e Carmine Nastro. Il progetto è stato presentato in conferenza stampa. È un privilegio oggi essere qui a presentare l'inizio di un settore giovanile, l'inizio di un percorso che inizia quest'anno, ma è chiaro che più si andrà avanti e più si cercherà di allargare. Era importante quest'anno partire con un settore giovanile, quindi non mi riferisco solo ed esclusivamente alla Juniores, perché come sappiamo la Juniores è una costola della prima squadra, invece parlare di settore giovanile parliamo di squadre allievi Under 17 e Under 14. È chiaro che ci sono anche altre categorie, però quest'anno noi partiamo con queste due categorie, ovvero con l'Under 17 e con l'Under 14. Abbiamo mister Carmine Nastro, che è qui alla mia sinistra, che sarà l'allenatore dell'Under 14. Alla mia destra ho un'istituzione della città di Agropoli, che è il signor Antonio Inverso, detto Cacciotta. Abbiamo un preparatore atletico, queste due squadre saranno seguite anche con un preparatore atletico, che oggi per motivi lavorativi non può essere qui, e che è il professore Pisciottano. Ci sarà anche un preparatore dei portieri che seguirà costantemente le attività dei portieri. Ritorno all'Unione Sportiva Agropoli dopo un anno di assenza, sono stato vari anni nel settore giovanile dell'Agropoli. Ritorno nel settore giovanile faremo due squadre, come detto da Antonello, l'Under 14 che parteciperà al campionato giovanissimi bi-provinciale e l'Under 17 che allenerà il nostro Cacciotta, che parteciperà invece al campionato allievi A provinciali annata 2005. Sono due formazioni che conosco bene da tanti anni, avendolo eseguito sin dai tempi della scuola calcio. Nello specifico, per quanto riguarda la formazione giovanissimi, è un gruppo che ovviamente quest'anno si va a formare, perché è la prima volta che partecipano al settore giovanile, fino all'anno scorso hanno fatto attività di base, è un gruppo estremamente numeroso. Certe volte abbiamo anche un po' di difficoltà a gestirlo, ma è un gruppo pieno di entusiasmo ed è anche molto divertente stare con questi ragazzi. Ed è stato anche molto bello, ad esempio, faccio un piccolo aneddoto, vedere ieri i ragazzi che facevano i racchettapalle alla partita della prima squadra, al gol della vittoria del 2-1, tutti i nostri racchettapalle sono entrati in campo ad abbracciare i calciatori che avevano vinto in pieno recupero. Ecco, questo è lo spirito che vorrei che si tornasse a creare nell'US Agropoli, cercando di lavorare tutti quanti dalla stessa parte, perché alla fine quello che contano sono i fatti e le chiacchiere invece lasciano il tempo che trovano. Sono molto soddisfatto di questo perché si punta sul settore giovanile, è un mio vecchio pallino da sempre, noi l'abbiamo fatto a un ottimo livello anni fa, ai tempi del dopolavoro, UGEN da Agropoli e c'è ancora uno strascico nella prima squadra di quei gruppi, tra l'altro è forse quello che è più giovane e più in forma in questo momento, che è Margiotta. Al di là di questo, tornare ad allenare una squadra di ragazzi, ho allenato prime categorie e seconda categoria, ma solo per divertimento perché non avevo assolutamente intenzione di fare una carriera d'allenatore e certamente mi ha riempito anche di entusiasmo, se vogliamo, perché sono ragazzi quelli che ho conosciuto, questi di Carmine, credo eccezionali, io mi sono già affezionato a loro, probabilmente pure loro a me, ma ci si diverte e si cercherà di fare bene. Al di là dei risultati, era veramente importante, loro come gruppo dirigenziale vengono da una realtà giovanile molto importante nella loro zona, che l'Academy per me è la migliore in assoluto, da Salerno fino a Sapri e su questo esempio noi speriamo si possa fare anche come West Acropoli.